Senti, che cosa c'è scritto su quel castello? E rettino, non sai leggere? Il borghese più imbecille dell'anno! E' una rapidissima giornata invernale, la temperatura è accettabile e non c'è minaccia di chiocca. Dovremmo quindi trascorrere un bel pomeriggio di sport, assistendo al 127esimo concorso per il borghese più imbecille dell'anno. C'è una gran polla a portocappo, tutti sbagliano di vedere questi idioti in azione. William Smithbuster, e nelle quarti reali, sa contare fino a 4. Simon Zink e Caprares, ma l'avvocato, ed è innamorato di una traente lampada alla tavola. E' già l'incubato del cerco, il suo miglior amico è un faggio, e nel tempo libero spidocchia orsi di peluche. Gennaro Brookwater, commercia in vino, suo padre lo usa come cestino per la carta straccia. E infine, Oliver Sissi-Sollesk è di origini polacche, suo padre era vice ministro, sua madre è una percuccia. Ha tutte le carte in regola per diventare il nostro imbecilio dell'anno. Ecco che i concorrenti si avvicinano alla linea di partenza, da un momento all'altro la gara potrebbe avere inizio. Ah, temo che siano rivolti nella direzione sbagliata, ma lo starter sta già provvedendo. Manca veramente poco, ora dovremmo udire lo sparo, sarò momenti di grande tensione. attenzione, partiti, no, 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 non sono partiti, non hanno capito che dovevano partire allo sparo, non mi importa, vedo che lo starter glielo sta spiegando, ecco alcuni ci sono arrivati, pronti, via, davanti ci siamo, e la tornezza è velocissima, e William a prendere il comando, mentre Oliver è scomparso sulla sinistra, mamma mia, ah, eccolo, i cinque adesso sono tutti in gruppo, e ora affronteranno la prima prova speciale, che consiste nel camminare sopra questo nastro bianco, i nostri imbecilli dovranno percorrerlo senza cadere, sembra che Oliver in terza striscia sia quanto in difficoltà, Simon invece procede spedito, Nigel lo tallona, Williams, no, 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 Oliver è andata, è ultimo, ma non importa, eccolo, eccolo che si rialza e prosegue la sua corsa, e seguirà, no, 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 che te la fare, ma ecco c'è la seconda prova, il salto dai pianiferi, due fili di scatole su una posta da scavalcare, Nigel ci riesce, anche Simon, pure William si prepara al balzo, William rifiuta l'ostacolo, e passiamo ad abbattere il venticante, e Nigel è il primo a cimentarsi nella prova, oh, quel calcio, ottimo, si rinforzi, il venticante è a terra, la folla è pazzita, ma torniamo su Oliver, che deve ancora superare la corsa, si lancia, è un caso risparato, e ora la terza prova, investire la vecchietta, Simon parte velocissimo, la prende in pieno, bravissimo, scatta poi in avanti, ma cosa fa, Oliver torna indietro, ci sembra disorientato, no, non lo si volta, è al decimo tentativo, scalpita, guarda l'ostacolo con odio, si concentra, vai Oliver, ma che ricade, peccato Oliver, e ora ha la prova a svegliare il vicino, Simon ha concluso il percorso, adesso sbatte lo sportello, funziona, il vicino ti sveglia, Simon mantiene il comando della gara, il pubblico sugli spalti, il delirio, ma ora attenzione, tiro alla lepre, le lepre sono state saltamente assicurate al terreno, perciò non possono difendersi scappando, è un'occasione più unica che rara per vendicarsi, parecchi colpi a vuoto, forse per l'emozione, qualcuno è nei guai, Gennaro sta usando il cucile in modo originale, mentre William si china per finire la lepre a mani nude, Gennaro è primo, Oliver invece chissà come si è investito da solo, ma che razza di favore, ma seguiamo gli anni, gli dovranno raspiare il reggiseno a manichino, è una manovra particolarmente difficile per la maggior parte degli imbecilli, ed è quella che richiede più tempo all'interno di questa emozionante competizione, la bolla si sta eccitando, e io soffetto che si siano eccitati anche un paio di concorrenti, vai Simon, e Simon funzionale per primo, seguita al ruolo della Nigel, siamo a una prova signori, il vincitore deve spararsi per diventare il borghese più impecino dell'altro, Simon ha problemi con il reggimento, Nigel ne approfitta, Nigel fa il suo colpo, anche Simon, Nigel baglia ancora, Gennaro invece va al centro, il primo tentativo, Gennaro è il borghese più impecino dell'altro, ci prova anche vediamo con scarsa fortuna, Simon spara, Simon ha torpito William, Simon ha regalato a William il secondo posto, continua a sparare, centro, Simon è terzo, mentre Nigel, Nigel a furia di mazzate, raggiunge il quarto posto. Diamo quindi il risultato finale, primo, e quindi i borghese più imbecilli dell'anno, Gennaro Brookmaster di Kensington, secondo, William Smithmaster di Birmingham, e terzo, Simon Dinkham Harris di Kensington. Beh è esalterato certamente molti tanti di champagne, stasera nelle vie di Kensington. Grazie a tutti.